Aziende siciliane sull'orlo del fallimento per i troppi furti subiti e quanto hanno scoperto gli uomini della squadra mobile di Ragusa che hanno sgominato una banda di malviventi che avrebbe compiuto furti a catene in diverse zone della Sicilia impossessandosi soprattutto di camion, grubbo, bucat, ruspe, attrezzature varie utilizzate nel settore edile, pezzi di ricambio ma anche vino, prodotti caseali, salumi e indumenti, un bottino stimato in un milione di euro. 17 le misure di custodia cautelare eseguite dalla polizia, in 4 però mancano ancora all'appello. L'inchiesta è partita dopo la denuncia di un furto ai 500.000 euro commesso la notte del 29 novembre di un anno fa a Comiso ai danni di un'impresa edile ridotta sull'astrico. Dalle indagini è emerso che è stato utilizzato un'auto appartenente ad un indagato. Ad incastrare il resto della banda sono state le immagini ai sistemi di videosorveglianza collocati a Comiso e diverse intercettazioni telefoniche e ambientali. La base operativa era a Catania, gli incontri avvenivano in piazza caduti del mare. Da lì la banda partiva quasi tutte le sere per compiere furti presso le aziende prese di mira. L'operazione è stata denominata strascico in quanto gli indagati, quando parlavano a telefono fra loro, simulavano battute di pesca. Il denaro lo chiamavano pesce. La squadra entrava in azione soltanto nei giorni feriali. Il fine settimana era sacro, andava dedicato alla famiglia. Il fine e il fine settimana.